Con un primo messaggio che è una buona notizia, cioè che l'economia della zona ora entra nel quinto anno di crescita ininterrotta, nonostante le incertezze politiche, geopolitiche con cui è confrontata, le sfide economiche che deve ancora raccogliere. Inoltre, e questa è una prima, prevediamo che tutti i paesi dell'Unione Europea, senza eccezioni, conosceranno la crescita sia nel 2017 anche l'anno prossimo al 2018. Guardando questa sequenza possiamo dire che la crescita nel 2017-2018 è supportata da diversi fattori, una politica monetaria che prevediamo resti espansionista, una politica di bilancio che dovrebbe essere neutrale globalmente, una fiducia delle famiglie e delle imprese che è in aumento ovunque la ripresa graduale dell'attività economica mondiale. Sappiamo che la crescita mondiale tende a rialzo, più fattori interni favorevoli come la crescita sostenuta delle creazioni di lavoro perché l'Unione Europea crea posti lavoro in modo sostanziale.